sono pronti per preparare le mie patate e zucchine gratinate al forno allora ho un aiuto sbucciato le patate adesso vado a tagliarla metà vado a tagliarle in questo modo e da qui vado a tagliare dei bastoncini come questi bastoncini sono un po lunghi vado a dividerli ancora a metà quindi ho tagliato la patata a metà le ho tagliate a fette e poi ho tagliato dei bastoncini e continuo così con le restanti una volta tagliate tutte le patate le ho messe in acqua fredda adesso le lascerò così in acqua fredda per circa mezz'ora un'ora dipende dal tempo che avete in modo tale che perdono parte del loro amido allo stesso modo andrò a tagliare anche le zucchine vado quindi a tagliare a metà la zucchina e vado a tagliarla a metà abbastanza spesso e più o meno sia le patate che le zucchine devono avere lo stesso spessore e quindi da qui vado a tagliare anche in questo caso dei bastoncini ecco qui dopo mezz'ora ho eliminato l'acqua e ho asciugato bene le patate ora le patate vado ad aggiungere le zucchine che ho tagliato allo stesso modo della snella questo punto vado a condire con olio extravergine d'oliva sale un cucchiaino circa anche meno per tutte queste zucchine patate origano se piace naturalmente mix di spezie io sto usando questo che contiene rosmarino da dragoncello e timo e aglio secco sempre se vi piace e inizio a mescolare un pochino a questo punto vado ad aggiungere del pangrattato eccole qui le mie patate e zucchine sono pronte adesso vado a metterle in teglia ecco qui le ho messe direttamente sulla teglia quella lì del forno e il segreto è distribuirle bene in modo tale che ci sia spazio tra loro infatti io le dividerò le metterò in due teglie eccole qui le mie verdure sono pronte vedete ho lasciato spazio ora vado a metterci su un altro pochino di pangrattato ma pochissimo eccole qui le mie patate e zucchine sono pronte per essere infornate le infornerò in forno ben caldo a 210 gradi 220 gradi regolatevi in base sempre ai vostri forni per 25-30 minuti ma come vi dico sempre regolatevi in base al vostro forno forno ventilato ed eccole qui le mie patate e zucchine gratinate al forno sono pronte sono state nel mio forno ventilato 220 gradi per 35 minuti ma voi regolatevi sempre in base ai vostri forni guardate che meraviglia ragazzi io vi assicuro che sono deliziose e anche i vostri bambini ne andranno matti quindi vi consiglio di prepararne sempre un po' in più e niente ragazzi io spero che questa ricetta semplicissima vi sia piaciuta se provate a farla in questo modo scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in instagram con le vostre foto e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video io vi mando un bacio ci vediamo alla prossima ciao